Questo servizio è offerto da Ciao sono Giada, la vostra consulente in nutrizione Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram Primi tre servizi Il Modena non ne vuole sapere di partecipare alla corsa per la promozione Continua a sprecare punti in modo incredibile Anche contro il Trento la vittoria era portata di mano Ma cinque minuti di follia sono bastati per rovinare tutto Dopo un primo tempo esemplare il Modena si è trovato in vantaggio di due gol E' stata sottolineata da Applausi la segnatura di Bergamo Venuta a conclusione di una spettacolare azione aerea Il Trento si è spinto in avanti e ha costruito due buone occasioni Un tiro di Rossi ha colpito la traversa Mentre un diagonale di Mauro è uscito di poco Il Modena ha agito in contropiede e ha ottenuto il raddoppio con Sorbello Servito da Costi che si era spinto in attacco Ma proprio il terzino destro ha dato il via alla serie di errori Che ha consentito la rimonta del Trento Con un problematico palleggio Costi ha tentato di mettere fuori gioco un avversario Però ha finito per ingannare Ballotta e per spedire la palla nella sua porta Cinque minuti dopo Colomba si è fatto soffiare la palla Con i difensori modenesi a braccia alzate per invocare un fuori gioco che l'arbitro non ha fischiato Benedetti ha potuto presentarsi tutto solo dinanzi a Ballotta Ovvio che a questo punto il Trento si sia chiuso nella sua area Molte mischi, una lunga serie di calci d'angolo Ma la porta di Quironi ha resistito Arezzo-Venezia-Mestre 2-2 Un pareggio che vale non soltanto per le squadre Ma si direbbe anche per i realizzatori del punteggio Infatti ai due gol del Veneto Solimeno nel primo tempo è risposto nella seconda frazione di gioco La Maranta di Nicola con un'altra valida doppietta Vediamo i quattro gol in rapida successione La prima doccia fredda per i Toscani al diciassettesimo Con un bel colpo di testa di Solimeno appunto su passaggio di Serena La seconda rete degli ospiti arriva a tempo scaduto Azione corale dei Veneti è stoccata finale dello stesso Solimeno Che sorprende il portiere Arefino Nella ripresa, forte del doppio vantaggio Il Venezia-Mestre tira un po' i remi in barca E l'Arezzo gli prende fiducia Ci si avviava alla mezz'ora quando Scanziani serve di Nicola Che colpisce di testa e manda la palla in rete E siamo al 2-1 A 12 minuti dal termine lo stesso di Nicola si ripete Girando in rete un cross di Cupini E' il 2-2 conclusivo e che premia salomonicamente Si direbbe sia le squadre in campo Che i loro rispettivi realizzatori Quattro reti fanno bella ogni partita Nel caso di Spezia-Montevarchi Il risultato di 3-1 in favore dei Liguri Ha fatto vedere le concrete possibilità di promozione Della squadra di Carpanesi Ed il valore dei Toscani Ecco quindi la nostra rassegna di gol Nel primo tempo lo Spezia muove tutte le sue pedine all'attacco E segna all'ottavo con Spalletti Immediata reazione degli ospiti Che pareggiano un minuto dopo Con una gran fiondata su punizione di Gian Santi La situazione di Stallo mette Pepe alle azioni dello Spezia Così al 35esimo Tacchi mette a segno la sua undicesima rete stagionale Prestazione che lo premia quale capo classifica dei cannonieri di questo campionato Poco prima del termine della prima frazione di gioco Tacchi viene atterrato in area Ceccaroni implacabile batte il rigore del 3-1 Secondo tempo senza storia Con lo Spezia che amministra gioco e vantaggio Lasciando al Montevarchi il breve spazio di una azione pericolosa Primo tempo eccezionale quindi per i Liguri Secondo tempo giocato con grande tattica Il turno di riposo ha permesso a Carpanesi di ricostruire una grande squadra La classifica dei marcatori del Gironia come ha già ricordato il collega Balestreri Vede al comando Tacchi dello Spezia con 11 reti Segue con 10 gol Gori del Dertone Adesso passiamo all'altro gioco Un Catania forte, grintoso, ben disposto in campo Ha imbrigliato e frastornato una Torres irriconoscibile E se non fosse stato per l'imprecisione la precipitazione al tiro di alcuni giocatori Gli uomini di russo avrebbero potuto portare a casa anche i due punti E' il Catania che si fa subito pericoloso al ventesimo con Casilli Che passa un bel pallone ad Ottavio Tolu sbuccia e il centravanti si vede negare il gol dal portiere Pinna Tre minuti dopo Mattei passa a Borghi ma il suo tiro è troppo alto Al ventiquattresimo è Zola che suggerisce ad Ennas la via della rete Ma l'attaccante sasserese spreca così Comincia la sagra degli errori catanesi Al ventiseiesimo d'Ottavio grazie a Pinna Poco dopo Tolu riceve nell'aria catanese Stoppa e passa inspiegabilmente e debolmente al portiere Nieri Al trentaduesimo Borghi spreca un bel pallone Si va al secondo tempo e la Torres si mostra più grintosa Al settimo ci tenta Zola con una delle sue ormai famose punizioni Nieri non si fa incantare Al quarto d'ora altro pericolo per la porta del Catania Lungo di Ennas sulla fascia destra Il suo suggerimento non viene raccolto da nessuno Al diciottesimo ancora Ennas su punizione di Zola Colpisce il pallone di testa ma niente di fatto Quindi al ventunesimo d'Ottavio solo contro tre uomini sardi Riesce a tirare fuori di poco sul tuffo di Pinna Poco prima della mezz'ora Liguori manda in campo Mario Piga e Di Francesco Per dare maggiore intelligenza al gioco Subito dopo azione pericolosa della Torres con testa finale di Bardi E rinvio della difesa catanese Quindi un pericoloso pallone calciato intelligentemente da Mario Piga A filo di porta costringe Nieri a intervenire Un pallone difficile sul quale Ennas non riesce né a intervenire Né a disturbare il portiere siciliano Clamorosa sconfitta della Vispesero che lascia i due punti al Foggia Si allontana dalla zona salvezza I locali passano subito in vantaggio al primo minuto con Bevanate Che raccoglie al volo di sinistro un suggerimento di Juha su calcio di punizione Il gol galvanizzava la Visse che rischia si fa per dire addirittura di chiudere l'incontro Quattro minuti dopo quando l'arbitro sorvolava su un evidente fallo ai danni di Briaschi Trattenuto per la maglia in piena aria Puntuale arrivava la reazione del Foggia La squadra di Caramanno punta nell'orgoglio Costringeva i pesaresi sulla difensiva E coglieva il pareggio al decimo minuto di gara con Orati Pronto a raccogliere di testa un calcio di punizione di Barone Con la difesa bianco-rossa ferma a guardare I rossoneri salivano in cattedra e mettevano in difficoltà più volte i locali Prima con Ferrante che si vedeva annullare il gol per un fuorigioco di Barone E poi con Fratena che al venticinquesimo sprecava solo davanti a Moscatelli In apertura di ripresa arrivava il colpo del K.O. per i pesaresi Coppola saltava Fratte in velocità e pescava Fratena che non aveva difficoltà a battere Moscatelli La Vissa accusava il colpo e non riusciva a creare più pericoli alla porta di Genovese E Sacchi rischiava addirittura l'autorete in un finale ricco di contestazione del pubblico di casa Ai danni dei propri giocatori Il campo basso risolto i suoi problemi societari Indossa un nuovo look e vince sul Perugia Orfano di Ravanelli, capocannoniere del girono I rosso-blu aggrediscono subito il Perugia e passano al settimo A seguito di un'azione corale negli acce, taglierini, caruso e serra che va in affoglio Bellissimo e teso il cross per Mandresi che in tuffo Beffa il suo Angelo Custolo ed il portiere Venti Timido tentativo di reazione del Perugia Che colleziona una serie di angoli senza mai in pensieri rinunziata Al campo basso si offrono diverse occasioni per chiudere l'incontro Ma non ne approfitta Nel secondo tempo sono sempre i padroni di casa a cercare il gol sicurezza Senza tuttavia scopirsi Rosa e Migliaccio in difesa Moro a centrocampo Mandresi in avanti i migliori Al cinquantaquattresimo Torroni riesce a chiudere in angolo sul Moro Al cinquantottesimo il primo tiro a rete del Perugia Eddi Manfrin che manda alto Al sessantaquattresimo Mischia in area dinunziata Il pericolo viene sventato così Sul rovesciamento di fronte Valentini è costretto a fermare Mandresi Al limite dell'area Lo stesso Mandresi al settantasettesimo Viene atterrato in area ma l'arbitro Morello fa proseguire Il Perugia è in corsa per un posto sul treno della B Compromesse le sue aspirazioni La risposta a domenica nell'incontro verità con il Foggia Ci sarà anche il suo goleador Ravanelli Intanto il Campobasso fa lievitare le sue speranze di salvezza E infine le sue speranze di salvezza E infine con il store Perugia è sul canale Il Perugia è sul po' Perugia è un po' Niente O che pioggia è un po' Perugia è un po' Parugia è un po' Perugia è un po' L'arbitro verità Grazie a tutti.